Siamo qui per dire un secco no a quello che è il progetto di creazione di un sistema di compostaggio nella zona industriale, in particolar modo sulla Morolense e nel territorio del nostro comune. Diciamo no perché riteniamo inopportuno mettere un'ulteriore bomba ecologica sul nostro paese, un paese già ampiamente martoriato dall'attraversamento del fiume Sacco, dalla zona industriale e da presunti rifiuti tossici che sembrerebbero essere internati in località Tomacella proprio in questa zona, quindi un'ulteriore bomba ecologica sarebbe più che dannosa per il nostro paese. I cittadini in questi giorni alla scoperta tenuta nascosta di questo progetto stanno dicendo anche loro un secco no a questa iniziativa. A me dispiace dire che avevamo ragione, durante la scorsa campagna elettorale avevamo denunciato questo fatto sul primo programma elettorale dell'attuale sindaco Fiordalisio c'era scritto a chiare note che volevano realizzare un sistema di compostaggio. I cittadini purtroppo non ci hanno creduto, hanno preferito credere alle bugie a questo punto dell'attuale sindaco Fiordalisio ed oggi purtroppo a meno di tre mesi dall'elezione della nuova giunta e della nuova amministrazione comunale ci ritroviamo ad avere sui tavoli della provincia, della regione e quindi del comune questo progetto di questo sistema di compostaggio che dovrebbe nascere proprio qui dove abbiamo voluto fare questo primo sit-in e questo primo incontro con i nostri simpatizzanti che poi a settembre quando sarà tutto più chiaro allargheremo anche agli altri cittadini. Patrica ha già dato troppo, non può più permettersi questo progresso che non guarda in faccia a nessuno. Purtroppo l'incidenza dei tumori in questo territorio è tra le più elevate d'Italia e ognuno di noi ha un caso in famiglia sotto questo punto di vista quindi sappiamo bene di cosa parliamo e non possiamo assolutamente permetterci di continuare così lo facciamo per il futuro dei nostri figli, semplicemente per questo. Sulla relazione tecnica dei progettisti che hanno presentato la regione Lazio parlano di 100.000 tonnellate annue di rifiuti soliti urbani quindi parliamo di una mole tale che non solo andrebbe a coprire il fabbisogno di Patrica ma probabilmente di tutta la Valle delle Pini e di gran parte della provincia di Frosinone. Sono dei quantitativi molto alti dei quantitativi molto alti che penso che questo territorio questa parte soprattutto particolare del territorio non può permettersi. Questa è una zona già abbastanza devastata per la Valle del Sacco per gli altri siti industriali che ci sono stati che oggi in parte sono chiusi ma che comunque hanno creato già dei danni aggiungere un'ulteriore bomba ecologica come questa penso che questo territorio non possa permettersi. A livello progettuale io non vorrei scendere troppo nei dettagli perché è chiaro che qualunque progettista io sono un ingegnere prima ancora che un amministratore prima di presentare un progetto è chiaro che il progettista è sicuro di presentare i numeri che rispettino le leggi vigenti poi la realtà è un po' diversa e la volontà politica è ancora un'altra cosa a livello progettuale l'impianto è un impianto molto grande parliamo di 100.000 tonnellate un fabbisogno giornaliero per alimentare l'impianto di 333 tonnellate un'incidenza detta del progettista del 5,6% del traffico veicolare su via Morolense ma soprattutto quello che mi lascia un po' perplesso è che il progettista si limiti a dire che a livello di densità abitativa parliamo soltanto di 5 abitazioni in un raggio di mille metri dal sito in questione ecco prima ancora da tecnico, da cittadino ritengo che anche qualora ci fosse una sola abitazione anche qualora un sito industriale vada a peggiorare le condizioni di vita anche di un solo nucleo familiare io penso che la politica prima ancora che i tecnici debbano impedirlo grazie mille grazie mille